L'ufficialità arriverà tra una decina di giorni, ma sarà Beatrice Venezia ad inaugurare a Lucca le celebrazioni pucciniane. L'appuntamento è per l'11 luglio sul palco del Summer Festival. Il direttore d'orchestra lucchese, consigliere per la musica del ministro della cultura San Giuliano, dirigerà l'orchestra Carlo Felice di Genova. La scelta di coinvolgere la Venezia per l'apertura ufficiale delle celebrazioni da parte del comitato pucciniano e del comune, in particolare del sindaco Pardini, da qualche settimana anche presidente della fondazione Puccini al posto di Veronesi, avrà un grande impatto per la città. Ma sulla scelta dell'orchestra Ligure c'è rammarico negli ambienti musicali della Toscana, dove la notizia finora è trapelata solo per alcune indiscrezioni. Era necessario, visto che stiamo parlando di Puccini, importare per un costo complessivo di oltre 65 mila euro un'orchestra da fuori regione? Ci si chiede. Oppure se questa era la direzione, perché non attingere ad esempio alla scala di Milano, che con un budget di poco superiore avrebbe avuto un legame ben più forte con Puccini e di sicuro prestigio a livello internazionale, anche grazie al maestro Shelley, profondo conoscitore di Lucca e dei luoghi di Puccini. Bocche cucite per ora da parte del comitato e del comune e il massimo riservo sarà mantenuto fino alla presentazione ufficiale del programma, che sarà svelato ufficialmente intorno al 20 giugno. Programma che dopo mesi di impasse dovrà rispondere alle aspettative per un appuntamento che grazie ad un finanziamento di 9 milioni e mezzo di euro rappresenta un'opportunità unica per il territorio.